200 interventi in 48 ore nel comune di Vicenza effettuati da protezione civile vigili del fuoco in questi due giorni in cui il maltempo ha messo in ginocchio la città con strade, scantinati di edifici allagati e persino lo stadio menti finito sott'acqua. Da stamane con il ritiro dell'acqua, la conta dei danni, la pulizia, la riapertura di tutte le strade della rete ferroviaria, la tensione va ai locali colpiti dagli allagamenti. Secondo una prima stima realizzata anche grazie al sorvolo delle zone allagate con l'elicottero messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, l'evento ha coinvolto circa 350 edifici e 2700 persone appartenenti a 1300 nuclei familiari. Io vengo da un sopralluogo in cui abbiamo visitato alcune delle zone più colpite a partire dalla zona stadio ma non soltanto, ci sono allagamenti importanti e anche danni importanti che potremo quantificare nei prossimi giorni. Al momento stimiamo che ci siano circa 350 edifici colpiti, circa 2700 persone, quindi si tratta di numeri veramente rilevanti. Le squadre della protezione civile, dei vigili fuoco restano operative nel senso che l'allerta resta in ogni caso anche se dal punto di vista diciamo così della pioggia non siamo al momento preoccupati per le prossime ore però sono attive perché proseguono con lo svuotamento delle cantine, degli appartamenti. In vista a un nuovo peggioramento meteo riprende la pioggia, si resta con il fiato sospeso fino a domani e intanto si ripristina la scorta dei sacchi di sabbia, 12.000 quelli distribuiti durante l'emergenza. È prevista pioggia, al momento non è prevista una pioggia particolarmente importante perché sono stimati circa 25 mm dalle 4 di oggi pomeriggio a mezzogiorno di domani però devo dire visto che le previsioni dell'altro giorno che dicevano che la situazione era miglioramento in realtà si sono rivelate sbagliate perché la situazione è peggiorata velocemente, ha messo in crisi la città, continuiamo a stare attenti, continuiamo a mantenere l'allerta e vediamo nelle prossime ore come prosegue anche perché bisogna aspettare che i fiumi defluiscono, sono ancora molto grossi. Il febbraio più piovoso di sempre nella storia della città, la media degli ultimi 50 anni nel mese di febbraio si attestava sugli 82 mm mentre quest'anno è praticamente triplicata arrivando a 300 mm. Precipitazioni concentrate in poco tempo che in questi giorni hanno messo a dura prova la tenuta del retrone. Ho sentito ieri il presidente Zaia dire che vale la pena di pensare a un bacino scalmatore, a un canale scalmatore, a un bacino di laminazione che consenta di portare via acqua dal retrone, ecco sarebbe assolutamente importante su questo se c'è la possibilità di dare un supporto e un apporto alla regione da parte nostra c'è tutta la volontà.